È una storia di passione per il vino che si è coniugata da subito con il concetto di qualità esteso a tutte le fasi di lavorazione, dal vigneto alla cantina, in un mix di tradizione e modernità. È la storia di Corteviazza, di Riva di Suzzara, una realtà sempre più apprezzata grazie innanzitutto al sapiente ed appassionato lavoro del suo titolare, Stefano Allegretti, che ha saputo interpretare in modo nuovo le grandi potenzialità del territorio, di quella parte di Oltrepò Mantovano, il Suzzarese, che al pari delle aree di Quistello e di Viadana è l'ideale come terreni per ottenere il miglior lambrusco mantovano. Non a caso, a Corteviazza, si è voluto puntare proprio sul marchio Oltrepò Mantovano, lo stesso di una delle due nuove etichette che saranno presentate con l'evento di sabato e domenica prossima, quando in cantina, dalle ore 18 in poi, si potranno assaggiare due nuovi vini accompagnati dai prodotti tipici del territorio. Sono lo Zara Red e lo Zara, sono i due lambruschi, diciamo, di punta dell'azienda e sono due lambruschi, posso dire velocemente gli uvaggi o quant'altro, uno è Ancelotta Salamino e Grappello, che è il classico mantovano, mentre l'altro un Ancelotta e un Salamino. Vengono proposti in questo fine settimana in un evento che si svolgerà il sabato e la domenica pomeriggio, nel tardo pomeriggio, dalle 18 in poi, per appunto presentare le nuove etichette e la nuova produzione della Vendemmia 2019. È un qualcosa questo che si andrà a collegare ad altri eventi che cercheremo di proporre in modo cadenziato, ogni tot di tempo, per i nostri clienti. Alla cantina Corte Viazza, la qualità passa anche attraverso la tracciabilità. Grazie al QR code riportato sui cartellini attaccati alle bottiglie, si possono avere in tempo reale sul proprio telefonino tutte le informazioni relative al cammino che il vino ha fatto dal vigneto alla bottiglia. Un'attenzione al prodotto, dunque a 360 gradi, come dimostra anche il locale della cantina riservato proprio agli assaggi, un luogo dove i profumi del vino si uniscono ad una moltitudine di emozioni in una raffinata esperienza sensoriale.